Siamo in zona rossa, in una situazione molto complicata, i dati ancora ci danno indicazioni di contagi in netta salita. Ovviamente noi dobbiamo rispettare le regole, ma anche pensare che ne usiremo. Ne usiremo perché con i vaccini che si stanno somministrando nella nostra provincia e in tutta Italia, noi pensiamo che nell'estate usiremo da questa situazione. Ma in questo momento abbiamo l'esigenza e la necessità tutti quanti di rispettare le regole e cercare di abbassare il livello del contagio. Perché, attenzione, non è solo il problema del Covid, ma è il problema di tutte le altre malattie che devono essere curate e dobbiamo permettere alla sanità di riuscire a dare le risposte ai cittadini che hanno bisogno di qualsiasi esigenza di salute. Perciò, sacrificio, non è bello per nessuno prendere decisioni che vanno a chiudere, a chiudere le scuole in modo particolare, a chiudere i ragazzi in casa, ma però in questo momento è sicuramente necessario un sacrificio da parte di tutti. Io penso che tutti quanti assieme riusciremo a uscire da questa situazione, ovviamente grazie al percorso che faremo con i vaccini.